Salve, sono Sandro. Oggi è dedicato ad un personaggio la cui inventiva e capacità professionale ha fatto sì che da oltre 50 anni possiamo presenziare e godere di spettacoli offerti principalmente da noti artisti italiani. Ecco a voi Duai Zigliotto. Ciao Sandro, come stai? Tutto bene, oggi siamo venuti ad incontrarti nel tuo regno, lo studio radio, dove conduci ormai da tanti anni in qualità di DJ programmi musicali. Ora vorremmo conoscere un poco di più relativamente alla tua passione, dici dove tutto ebbe inizio. L'inizio musicale è iniziato nell'anno 72, fino a quel punto lavoravo con studio regale di Melbourne, ho pensato di cambiare la vita, mi sono messo nel mercato della musica e i cantanti e ho iniziato a fare spettacoli artisti locali all'inizio, roba italo-australiana a quel livello. Come nasce il tuo coinvolgimento nell'Eurofestival? L'Eurofestival, mi è sempre piaciuto l'Eurofestival e nell'anno 2000 sono andato al primo Eurofestival, che era in Svezia, a Stoccolma. Ero l'unico giornalista australiano di radio all'Unervisione e per 20 anni sono stato l'unico che mai stato, anzi quest'anno mi hanno dato un piccolo ricordo per essere stato 20 anni l'unico giornalista a quel livello. Ero visto l'Italia che a quei tempi non esisteva nell'Eurovisione, è venuta più tardi. L'Australia invece rappresentava soltanto l'Inghilterra, quello Oliver Newton-John con quei cantanti. Da là è nato l'amore per l'Eurovisione. Senti, la partecipazione dell'Australia all'Eurofestival ti vede anche parzialmente coinvolto? No, sulla decisione non è coinvolto perché ero là quando ha iniziato l'annuncio che l'Australia entrava, tanti europei erano contenti, tanti contro l'idea, pensavano che c'entra l'Australia con l'Europa, come dicono che c'entra l'Israele con l'Europa. In quel caso non erano soddisfatti di averli dentro, però eventualmente è entrata perché in Australia è seguito l'Eurovisione sull'SBS. In quel caso l'Australia è entrata e a quel tempo è più facile noi lavorare con loro. Quindi sei un punto di riferimento per tutta la stampa australiana per quanto riguarda… L'unico che è stato alle vent'anni e sappiamo un po' di tutta la storia dell'Eurovisione. È vero che l'Eurofestival non sempre può essere vinto da chiunque per motivi organizzativi? Precisamente, perché la regola è che la nazione che vince diventa ospite il prossimo anno, ma in certi casi le nazioni che può vincere non hanno gli elementi, non c'erano i soldi di organizzare una festa così. L'Australia non potrà mai vincere perché siamo troppo distanti da avere 26 nazioni venire in Australia per l'Eurovisione. In questo caso alla fine certe volte il risultato lo cambiano. Per esempio è vero anche per paesi tipo Andorra o San Marino? Precisamente, San Marino potrà vincerlo. E anche Malta ad esempio. Malta se devono ospitare tutte le persone, è impossibile. Ci sono quasi 2.000 solo giornalisti che partecipano. Aggiungi 16 nazioni con 30 membri di ogni nazione, è impossibile che la Malta o come si chiama San Marino possano fare un spettacolo a quel livello. Quindi sono dei risultati che qualche volta non rispecchiano esattamente i valori in campo? Il risultato che è più giusto è quello della giuria. Quella giuria è quello che è più giusto. Dopo quando aggiungono il voto speciale, il voto del pubblico, là quando cambiano il risultato. Ho capito. Senti, per quanto riguarda l'Australia, tu sei probabilmente il riferimento di tutta la stampa australiana. Per quanto riguarda il giornalista, sei l'unico che è stato là 20 anni. Conosco benissimo tutti gli organizzatori dell'Eurovisione. E anche in Australia qua, la maggior parte, quando chiedono qualcosa da fare sull'Eurovisione, mi chiedono me. Qual è il personaggio che più ricordi con piacere? Dei cantanti, mi vuoi spiegare. L'unico che è il più favorito è sempre stato Umberto Tozzi. La tournée è stata fatta nel 1882, la prima. Anzi, è stata la sua prima tournée fuori dall'Italia a quei tempi. Anzi, abbiamo fatto la tournée senza il suo complesso italiano, abbiamo fatto un complesso locale. Ho avuto dei bei concerti quasi pieni in tutta l'Australia. Siamo ancora amici oggi e l'ho riportato qua 3-4 volte dopo l'84. Nell'82 abbiamo fatto una tournée successa in ogni città, che abbiamo fatto Perth, Melbourne, Canberra, Brisbane, tutte. Ma a Sydney due opera house pieni. Nessun artista italiano l'ha mai fatto e lo rifarà per il momento. Lui è la persona che più, posso dire, ha avuto i più grandi successi. E' sempre stato un piacere. Abbiamo fatto anche la festa di Calton nell'82. Non so quante persone, ma un po' chiudì alla festa. E dopo è andato, ti ricordi, il mondo music, c'era un negozio locale. Umberto è andato a firmare dei dischi. E' entrata tanta gente che hanno rotto la porta d'entrata alla festa di Calton. E i danni che li ha pagati, i tozzi? Ci ho messi d'accordo, ho comprato una cena e tutto è andato bene. Ah vabbè, come una cena si è sistemata. A Papagino a proposito. Ah, una cena da Papagino. L'unico posto che puoi andare. Quale vorresti invece non aver mai incontrato? Mai incontrato proprio nessuno, ma è il più difficile, posso dire, di chi era. Parliamo di una stella italiana del canto, parliamo di il revuccio della canzone, parliamo di Claudio Villa. Sul palco un re, l'amavano tutti. Da lavorarci come persona, difficilissimo. Tutto doveva essere a perfezione, potrebbe mancare niente, che in quel caso può andare bene. Ma altre cose che non c'entravano, lui doveva fare un po' casino con tutte le cose. Villa è l'unico che forse non vorrei rifarcela, ma Dio benedica, non è più con noi. Un carattere un po' difficile. Difficilissimo, difficilissimo. Duane, un tuo ricordo di Lucio Dalla. Il grande Lucio Dalla. Sono andato in Italia a firmarlo nel portale in Australia. E lui, quando ci siamo incontrati, mi ha detto, l'unico paese che volevo andare è l'Australia. Ti ringrazio che mi porterai in Australia. Un grande artista, facilissimo, opposto di Villa, lavorarci, si poteva lavorare. Una cosa che mi ha chiesto, la prima cosa che ha avuto in Australia, posso incontrare Oliver Newton-John. Perché lei ha registrato una canzone di Dalla. Tutta la vita è diventata Boy Only Die, registrata da, è organizzato appunto un incontro, ha fatto un caffè con Oliver Newton-John. Contentissimo. Australian Friends, io sono Lucio Dalla, I'm very happy to sing in Australia. Il 29 a Sydney e il 30 a Melbourne. Io sono molto contento di venire per la prima volta, mi sono già attrezzato. Non voglio fare la figura del turista, ma dell'australiano puro. Ringrazio Dwayne Ziliotti e la BMG che mi hanno fatto venire per la prima volta. In attesa che io venga direttamente a cantare per voi, ascoltate il mio disco. Qui dove il mare lucida, si tira forte il vento. Il tuo peggiore flop? È strano perché è uno dei più popolari gruppi che l'Italia ha mai avuto. Li chiamano i Beatles italiani, parliamo dei Pooh. È stata una bellissima tournée, una produzione su Stag, fantastica. luci, tutto quanto, è una cosa fenomenale. La gente non è venuta. A Festival Hall 400 persone, che non è niente. Quello è stato il mio grande flop. Ma i ragazzi, il gruppo, fantastico. Qualche domanda più personale. Qual è il tipo di musica che più ti piace realmente? Io sono uno dei ragazzi degli anni 50, il mio teen IGS, perciò Elvis Presley e Rock'n'Roll. È la musica che ho sempre rispettato, mi piace ancora oggi. Anzi, uno dei film di Elvis Presley, il Blue Hawaii, a quei tempi noi in Australia, andiamo al cinema, cominciamo alle 10, ripetevano il film ogni due ore. Io sono nato da Blue Hawaii, a Melbourne, è entrato alle 10 di mattina, è uscito alle 10 di sera. Conoscevo tutte le canzoni, tutte le parole, tutto quello che Elvis aveva detto. È impressionante. E dopo arrivato a casa, ho dovuto dire ai miei genitori che ero rimandato a scuola, hanno tenuto più a scuola. Praticamente la tua prima lezione di università, per quello che poi hai fatto. Sì, l'università sulla musica e sugli idoli della musica. Qual è un oggetto da cui non ti separeresti mai? In questo caso è una giacchetta di mio padre, che è stata data da lui e da mio nonno. La tengo ancora a casa e certe volte la indosso per la casa. È una cosa che non potei, è un ricordo fenomenale, una cosa proprio che non potei mai dar via. Prima di tutto mi piace dormire più a lungo possibile di mattina, non solo di mattina. Ma la prima cosa che viene in mente è un bel caffè ristretto, bollente. Come la canzone di quella, non mi ricordo di chi, ma c'è una canzone cantata caffè bollente, ho sentito, non so, forse mia Martini. E il caffè è importante a Trieste? È importantissimo a Trieste. Abbiamo il nostro amico Ili, è vero, a Trieste. Il caffè è come la religione. Qual è la somma massima che hai speso in un'unica serata? In questo caso ritorniamo a Umberto Tossi, perché dopo la tournée australiana, un grande successo, siamo andati io e lui in vacanza per 3-4 giorni alla Gold Coast. E due o tre feste che avevano alzato noi con i nostri amici lassù, ci hanno costato un pochino più del normale. Qual è la persona alla quale puoi dire di tutto? Veramente, è mia madre. Purtroppo l'ho persa 4 anni fa. È difficile, ancora oggi è difficile accettare quello. Ma lei era l'unica persona che anche nel mio lavoro poteva dirle di tutto e lei mi ascoltava. Aveva sempre la sua da dire, è una persona forte mia madre lo stesso, ma è proprio la persona che mi manca più di tutto. Quanto contano i soldi nella vita? Buona domanda, perché i soldi di solito, all'inizio quando iniziamo, giovani, i soldi vogliono dire tutto. Perché pensiamo che quei soldi può fare tutto. Invece con il cadavere degli anni e la vita, però i soldi non è tutto. È quello che fai, le cose che rimangono, le cose che ricorderai, essere contento in te stesso, è il più importante dei soldi. È quello che anche i milionari ti diranno la stessa cosa. Il tuo progetto futuro. Prima che questa disgrazia del Covid era successo, avevo in mente di aver già fatto un spettacolo da fare in turné in Australia, appena iniziato, abbiamo interrotto, anche in Asia e Giappone. Ha fatto un musicale sulla vita della grande Connie Francis. Lo sai che era itola americana, molto grande. Anzi, ai suoi tempi, era uguale a Elvis Presley la parte femminile. Era la queen del rock and roll a quei tempi. E quindi questo progetto è ancora in essere? Speriamo adesso di riportarlo fuori, appena che si può fare spettacoli in grande di nuovo. È una bellissima idea che voglio farla. Grazie Duenna, è stato un piacere averti con noi. Ti facciamo i nostri migliori auguri e ti diamo appuntamento alla prossima occasione. Grazie del tuo tempo. Grazie a tutti. Grazie a tutti.